Cono nostro moco? Olio. Chiamamo olio. 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 Lo bonzo. Cono olio. Yeah! Un bonbonbon. Ma detto che è un bonzo, un bonzo. Ilè! Un frite buddista. Ah! Si è bruciato sto bonzo. Si è cosparso di benzina nella piazza principale e poi... E cosa è successo? Niente, si è dato fuoco da sé perché vuole la libertà. La libertà è bruciata. E ha bruciata per l'aula. E ha bruciata. E ha bruciata. E ha ha ha. Son finiti bruciacchiati, asfissiati, anneriti dal Grisù Cos'è successo? Niente! Più di sessanta terù Son finiti alla vila Son finiti alla vila Sfissiati Sfissiati Io ho la macchina Ho un bel mestiere E non faccio il minatore Ho la mutua Ho la casa al terzo piano C'ho i servizi col bidet Cosa interessa a me Della mia libertà Libertà De plus a De plus a Per Pude K Per tribuna E per Pude K E per Pude K A Pude Spissiati E spissiati Per Pude K E libertà Per Pude K M'han detto iersera Iersera Cos'è? Il dottor Piraghi Chi l'è? Il caporeparto Ah! Che son licenziato Di troppo E per via E per via Della pressione Sul mercato Principale E poi Eeeh 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 Eeeeeh Non c'ho più la macchina Sono disoccupato Oh no! La mia donna mi ha lasciato Senza mutua No! Senza casa Non c'ho più neanche il bidet Sono qui, peggio di un vuoto, non c'ho neanche la benzina per bruciare Mi interessa anche a me della mia libertà E libertà dell'aula, dell'aula per poter bruciare E poi bruciare per poter morire, e poi morire per poter caffare E poi andare alla rivoluzione, andare a fare la rivoluzione Andiamo a fare la rivoluzione, allora, a che ora ci vediamo per fare la rivoluzione? Alle tre e mezza puntuali No, non posso, quattro e mezzo a quattro C'è da fare a quattro e mezzo a quattro Sono dei dipendi, devo andare dal giornalario a parlare Eh, la rivoluzione devo fare quella rivoluzione Posso dire una cosa, alle quattro e mezzo a quattro non ne facciamo più Facciamo ai quattro e mezzo a quattro e mezzo a quattro Ci vediamo dopo, ci vediamo dopo Come fare la rivoluzione Come fare la rivoluzione